Salve a tutti, oggi ci troviamo a Carpinone, provincia di Sernia e siamo di fronte al campanile della Chiesa Marre dedicata all'assunzione di Maria Vergine, addirittura collegiata. Qui abbiamo tre campane che tra poco ascolteremo per il cenno, per la missa domenicale. Da Carpinone per ora è tutto, un saluto e alla prossima. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.